Buona giornata, ben ritrovati con Sette in Punto, buon inizio di settimana con la nostra trasmissione che apre anche come di consueto la giornata informativa di Telepadova a Settegold, un'ora dedicata all'approfondimento, all'attualità e stamane davvero di attualità si può parlare perché c'è una situazione in particolare che si sta portando avanti da qualche tempo e mi sa che si porterà avanti per un altro po' di tempo ancora, ma ne parliamo con la prima ospite che è Margherita Grigolato, ben trovata, sindacalista della finca CGL e che segue in particolare in questo periodo la situazione di molte scuole del veneziano in particolare in Veneto anche nella provincia di Trieste che hanno problemi legati alla pulizia delle aule e in questo appunto a mezz'ora cercheremo di capire quale sia il problema complessivo ma anche da dove nasca tutto questo perché chiaramente c'è questo problema che interessa innanzitutto quante scuole? Sono 159 istituti nel Veneto e quindi per istituti si intendono delle scuole che sono state accorpate quindi potrebbero essere anche per esempio c'è una scuola dove ci sono 13 plessi e quindi sono 159 istituti sui 600 di tutto il Veneto e interessano per noi, per quello che mi riguarda 730 lavoratrici più l'appalto e anche comprendente Frui Venezia Giulia che sono alcune scuole della provincia di Trieste e forse qualcuna di Udine ma insomma è una poca cosa insomma. Un quarto circa degli istituti Veneti in particolare che si trovano in pratica da un mese più o meno dalla fine di dicembre, dal primo di gennaio, in una situazione complicata. Sì perché è cambiato un po' anzi è cambiato l'appalto, dobbiamo fare un po' una storia. Allora nel 2000 durante il governo Prodi c'era una situazione per cui i bidelli erano assunti da varie istituzioni, la provincia, il comune, la regione, lo Stato. C'è una sanatoria e il governo decide che tutti i bidelli diventano dello Stato e siccome ovviamente non si andrà più a un turnover, la copertura del turnover dice, la legge dice che qualora dovessero servire servizi di bidellaggio, accudienza e sorveglianza, le scuole possono accedervi attraverso l'esternalizzazione dei servizi, quindi l'acquisizione di questi servizi al pubblico mercato. Si individuano delle risorse che devono bastare per questo. Diciamo che va a regime e si individua attraverso una gara nazionale divisa per lotti e quindi il lotto veneto, viene vinto dall'associazione temporanea di impresa a Tismeraldo, il lotto che è stata poi la gara che è stata guidata dall'ufficio scolastico regionale e quindi c'era un ragionamento tra l'ufficio scolastico, la ditta e le varie dirigenze scolastiche ed era basato sulla pulizia delle scuole, la cudienza e la sorveglianza. Un accordo che ha funzionato questo? Certamente, sì, noi non abbiamo avuto, a di là delle normali ragionamenti sindacali, ma non abbiamo mai avuto grossi problemi con queste ditte, che hanno sempre pagato le lavoratrici alla fine del mese, è stato un buon rapporto. Poi, cosa succede? Nel 2009, se ricordate, Tremonti decide di tagliare il finanziamento della scuola pubblica per 8 miliardi ed è chiaro che interviene anche negli appalti. Gli appalti della pulizia delle scuole taglia del 25%, anche a fronte del fatto che vige ancora in Italia un reggio decreto del 1923 che stabilisce che io, Stato, posso tagliare una commessa del 20% senza darti nessuna spiegazione. Quindi inutile qualsiasi ricorso? Nessun ricorso, anzi, le ditte hanno tentato anche il ricorso, ma non ci sono stati santi. Quindi, taglio del 25% e bisogna dire agli spettatori che le lavoratrici, le signore adibite, perché sono al 99% le mie signore, le chiamo, lavorano 3-4 ore al giorno al massimo perché accolgono i bambini, poi magari se ne vanno o tornano per le pulizie, poi magari indossano un'altra casacca di una ditta per fare lo scodellamento. Spesso e volentieri chiudono le scuole a pomeriggio perché si tratta spesso di istituti dove c'è il tempo pieno. In alcuni istituti ci siamo solo noi, in altri istituti ci sono solo i bidelli, quelli dello Stato. E in altri c'è la compartecipazione. E in quali istituti è che praticamente si stanno creando i maggiori problemi? Allora, vabbè, dopo ritorniamo sulla storia, ma insomma... Finiamo che è la storia. Allora, la storia poi è, io taglio del 25% e la Regione Veneto, peraltro, è stata l'unica regione che ci ha aiutato con 900 mila euro tirati fuori dal bilancio dicendo vabbè, io vi do una mano per superire ai mancati servizi. In più, noi abbiamo chiesto la cassa integrazione per le lavoratrici e quindi lo Stato ha tolto con una mano i soldi e con l'altra ha reintegrato il misero stipendio delle lavoratrici che oscilla, ricordo, tra i 400 e i 500 euro al mese, se va bene. Però, di fatto, tu hai tolto alcuni servizi. Poi, le mie lavoratrici sono così brave che, soprattutto nelle scuole dei bambini della prima infanzia, corrono di più per poter pulire, perché i banchi devono essere igienizzati, perché i bambini ci sbavano sopra. Sono corse vere e proprie, quelle che vogliono fare. Esattamente, sì. Questa cosa poi viene scippata all'ufficio scolastico regionale e di fatto al Ministero che si occupa dell'appalto direttamente con i dirigenti degli istituti e con la ditta che c'era. L'appalto è stato prorogato varie volte, perché noi avevamo detto che bisognava, come dire, fare la nuova gara sì, ma i momenti in cui si poteva governare l'entrata e l'uscita, eccetera. Finché, insomma, nel 2013 c'è stato detto che era stata vinta, nel nostro caso, da Manutencop, avevamo detto che era necessario fare il cambio di appalto o durante le ferie estive, in maniera tale che non ci fossero riscontri negativi all'interno dei servizi scolastici. Non siamo stati ascoltati e ci è stato detto che il cambio di appalto avveniva col primo di gennaio. Un momento peggiore, dopo le feste... Esattamente. Allora, Manutencop si è presentata ai vari dirigenti scolastici che hanno capito e non capito quello che c'era e che bisognava fare. Ma al di là di questo, era una concezione completamente diversa rispetto a prima, una filosofia della pulizia, perché mentre prima si diceva ci sono questi soldi e dovete tenere pulito questo, oppure accogliere e accudire i ragazzini, la nuova gara d'appalto prevede dei servizi che sono tipo una biblioteca, una libreria, una scaffale di biblioteca, voi togliete un libro che equivale a cestinature, pulizia bagni, spazzolamento, detersione, cioè non l'insieme del servizio, ma i singoli servizi. Perché questo? Perché il governo, il ministero è stato sancito, è andato in infrazione europea, uno perché non ha fatto la gara d'appalto a livello europeo e quindi ha dovuto rifare il bando, due perché non poteva spendere per servizi appaltati più di quello che avrebbe speso utilizzando dipendenti interni. E quindi per pagare questa cosa lo Stato dice io ho accantonato, perché non li ha mai assunti, o meglio li ha lasciati a casa, 11.500 ATA, cioè bidelli. Quanto costa un bidello? 24.600 euro annui, con quei 24.600 euro IVA inclusa, cioè il bidello non costa IVA inclusa, ma il servizio sì, ricordo che è il 22%, quindi di fatto io ho in mano 20.400 euro da poter utilizzare, tu puoi comprare quei servizi. Peccato che ad alcune scuole sono stati dati più ATA, ad altri no, ma io non posso fare un bilanciamento tra quello che c'è in quella scuola, in quell'istituto o in quell'altro, perché quelli sono soldi di quell'istituto e in base a quei soldi lì io ho situazioni per cui, tipo Mira 2, da 280.000 euro passo 80.000 euro e non ho i soldi per poter pagare le lavoratrici che aprono e chiudono le scuole. Ma c'è qualcuno che potrebbe fare questo bilanciamento? È una cosa ancora più complessa. Allora è più complessa la questione, tanto è vero che alla luce del fatto che ci siamo resi conto, ma l'avamo detto da subito, che le risorse non sarebbero bastate, abbiamo spinto ripetutamente e per fortuna questo governo ha capito e all'ultimo momento, quindi il 23 di dicembre, nell'articolo 1 della legge finanziaria al comma 748, cioè l'ultimo comma, stabilisce che c'erano le risorse per gennaio e febbraio per integrare i servizi come erano nell'appalto precedente. Almeno per questi due mesi, nel frattempo si insediava un tavolo interministeriale, composto dal Ministero della pubblica istruzione, il Ministero del lavoro, delle finanze, la ragioneria di Stato, l'Anci, la conferenza Stato-Regioni, le parti datoriali e noi, per trovare la soluzione a tutto il ragionamento complessivo. Quindi non solo a trovare i soldi, ma a dire come lo facciamo e non a tamponare per altri due mesi, ma per risolvere definitivamente la questione, perché si sono resi conto, ed ho un dato, che da 600 milioni che costava ogni anno l'appalto prima del taglio del 25%, si è passati a 290 milioni di euro. Voi capite che è esattamente la metà e tu non puoi fare gli stessi servizi con metà dei soldi. Certo, per questo punto è stato anche sottolineato, sto pensando a una serie di indicazioni, ad esempio l'incontro dal perfetto di Venezia, che ha detto che in una situazione del genere non è certamente da sottovalutare. Esattamente. Però una cosa che volevo chiedere, davvero le dipendenti di Monuto in Coppa si sono presentate con pochi strumenti per pulire, con pochi detrassili, che questa è una delle accuse che è stata indicata dai genitori? Certamente, ma succede sempre. Finisco un appalto. Perché avevamo chiesto che ci fosse il cambio appalto durante le ferie estive? Perché è normale che la ditta che esce porta via i grembiuli, i secchi, si cambia tutto e quindi la nuova ditta che entra deve portare tutto l'equipaggiamento, non solo in termini di sicurezza, perché le scuole devono sapere che entra tizia piuttosto che caia, perché ci sono dei bambini, ci sono anche degli adulti, ma è la sicurezza di tutti, potresti entrare tu, potrei entrare io, come è già successo per altri in alcune scuole, che dice, ma lei chi è? Senza il tagliandino di riconoscimento. Questo perché? Sempre perché il cambio appalto è avvenuto in tempi che non andavano bene, l'Avanuta in Coppa è andata a fare il sopralluogo, ma non dappertutto, e quindi ha chiesto ai dirigenti su piantine di dire cosa vuoi, cosa facciamo, cosa compri. Ha fatto le prime ricognizioni ormai in tempo avanzato e quindi non ha provveduto a portare esattamente il materiale che serviva subito. Diciamo che gennaio è servito a coprire un po' i buchi e poi siccome l'appalto era già iniziato, le risorse preventivate dal comma 748 c'erano, ma erano i dirigenti che dovevano chiedere servizi aggiuntivi. Se i dirigenti lo fanno tardivamente, vuoi perché Manutencop non sente o non telefona, vuoi perché ci sono difficoltà di comunicazione, chiamiamole, è chiaro che non va in porto, non ci si adegua né come ore né come servizi. Il prefetto, perché è stato importante andare dal prefetto? Perché lui, anche a nome degli altri prefetti delle province, delle altre province, si è fatto carico di dire vabbè allora andiamo con una task force per capire dove ci sono i problemi più grossi e per capire come fare, sapendo che questa cosa si può ovviare solo a fine febbraio. Facciamo una piccola parentesi, così poi approfondiamo il discorso da febbraio in poi che succede. Sono coinvolte 6 province su 7, Belluno esclusa, perché in particolare? Perché probabilmente nel 2000 le scuole avevano bidelli sufficienti e non hanno ritenuto opportuno di andare sul mercato per acquisire servizi e quindi lei, diciamo che la provincia è fuori. Ma se io ragiono, non è omogenea la questione, perché è interessata Venezia? Perché in provincia di Venezia ci sono 65 istituti e quindi c'è un'alta concentrazione di problematicità. Su Treviso sono 39, provincia di Padova ce ne sono mi pare una ventina, forse meno, sono 8 solo in provincia di Vicenza, una ventina su quelli di Verone e quindi altri 20 su Rovigo. Cioè, fatti un po' i conti, sono 159 gli istituti ed è chiaro che la concentrazione è in provincia di Venezia, anzi è nel comune di Venezia il maggior disagio. In particolare, perché nel comune di Venezia e comunque in questa cintura? Perché abbiamo fatto un po' il ragionamento in effetti. Probabilmente perché i servizi scolastici ottenuti da amministrazione centrosinistra nel corso degli ultimi 20 anni, che hanno fatto della scuola di Venezia, soprattutto la scuola veneta, diciamo, ma della provincia di Venezia un'eccellenza in Europa, prevede il tempo intero, diciamo, prolungato e quindi la necessità di avere l'orario in orario di apertura, chiusura a scuole, ma di accudienza e sorveglianza personale che non era più lata perché andava via prima e quindi di poter chiedere servizi aggiuntivi attraverso le ditte appaltatrici. L'eccellenza dunque costa. Mi riferisco a una cifra che diceva prima. Nel 2009 la Regione Veneto avrebbe dunque aiutato con 900 mila euro tutto questo. E questi 900 mila euro è stato un intervento per quell'anno o è l'intervento complessivo? No, allora, a bilancio nel 2009 hanno cominciato a erogarli nel 2010 e nel 2010 sono stati praticamente utilizzati quasi tutti, considerate l'IVA, eccetera. Poi una parte è tornata indietro perché non sono riusciti a sviluppare interventi, cioè a dire alla ditta acquisisci, fammi le pulizie di fondo per esempio, però sostanzialmente sono stati spesi, mi pare 700 mila euro di quelli spesi, cioè reintegrati e le lavoratrici e le scuole hanno avuto i servizi adeguati. Un intervento che adesso servirebbe ovviamente ma è impensabile un po' con i fondi pochi, a parte con i fondi, esatto. Io ritengo che al di là del fatto che avevamo chiesto un incontro alla Regione Veneto e all'assessora Donazzan che al tempo ci aiutò, ci aiutò tutti, voglio dire, non solo le lavoratrici ma anche gli istituti, in questo momento credo ci siano dei problemi, però insomma noi vorremmo anche parlarne perché lei, perché il Veneto ha un grosso peso nella conferenza Stato-Regioni e potrebbe spingere perché a Roma si trovi la soluzione definitiva. All'epoca la Donazzan era all'istruzione, cambia qualcosa? No, è entrambi, istruzione e lavoro è come adesso, uguale, per cui c'è continuità e di fatti devo dare atto all'assessore di essere stata molto partecipe al tempo e di aver dato, a parte l'importo dei 900 mila euro, di averci seguito anche poi nell'erogazione della Cassa Integrazione in deroga, perché ricordo che le ditte che utilizzano il contratto dei molti servizi, che erogano questi servizi, non possono avere la Cassa Integrazione straordinaria, ma solo quella in deroga, cioè quella che è stata inventata appunto con l'inizio della crisi nel 2007. Fra tre minuti circa c'è l'unica pausa della nostra chiacchierata, c'è tempo dunque giusto per fare il quadro di chi sono le 730 in Veneto, 60 Trieste e lavoratrici? Allora facciamo una fotografia, una fotografia media, fotografia sono lavoratrici, le più giovani hanno 40 anni, la media è tra i 50 in su, sono quasi sempre monoreddito, magari con figli a carico, che hanno questo lavoro che quando va bene portano a casa 500 euro al mese e magari riescono a ritagliarsi delle altre ore pomeridiane per fare un altro piccolo lavoro da qualche altra parte e che se perdono questo lavoro, perdono una parte sostanziale della loro vita. Con i tagli preventivati che sono stati posti da Manutencop, alcuni lavoratrici sono viste tagliare il proprio lavoro del 80%, che aveva 30 ore settimanali e si è ridotta a 5. Quindi in un giorno lavorerebbe tre quarti d'ora, mezz'ora? Sì. E in mezz'ora cosa si fa in una scuola? La fai in mezz'ora, ti metti il camice e poi ti dicono cestinature perché per la questione dei servizi essenziali io devo, è tassativo che i cestini debbano essere puliti perché potrebbe esserci del materiale infiammabile e faccio e riesco a pulire qualche bagno, punto. Avendo, ma anche qua c'è una media di aule ciascuna o dipende da scuola? Assolutamente, esattamente, perché c'è a chi addirittura hanno chiesto di pulire in 45 minuti mille metri quadri. Io vi sfido, neanche avendo una scopa davanti e una dietro, oppure bisognerebbe avere il motocoltivatore, ma non è possibile, davvero non è possibile, perché prima magari c'erano 4 operatori e è stato ridotto a 2, a 1, in alcune scuole tu hai due operatori su due piani e sono quelli che se l'insegnante ha un problema con qualche bambino che deve accompagnarlo al bagno o che dovesse succedere, mi ricordo in una scuola, l'insegnante denunciava che nella seconda elementare lei aveva in classe tre bimbi con problemi di glicemia perché hanno diabete infantile. Non era mai successo, ma qualora uno dei bambini venisse una crisi, lei doveva seguire quel bambino e gli altri a chi venivano lasciati e se non c'è il bidello ci sono le mie signore e quindi se c'è un'unica bidella, un unico ata su un piano che deve seguire dieci aule, provate a immaginare voi. Sicuramente è complicato. Questo dunque è un quadro complessivo che adesso andiamo a approfondire cercando di capire con Margherita Grigolato come si possa evolvere la situazione e soprattutto quali sono anche le scadenze principali tra poco, a fra poco qui a 7 in punto. Finora abbiamo parlato di scuole in modo generico, parliamo soprattutto di scuole elementari, medie, di che scuole parliamo? Allora, in larga parte sono scuole materne, scuole elementari, alcune medie e pochissimi istituti superiori e quindi c'è una notevole differenza di erogazione dei servizi perché nelle scuole materne i bambini utilizzano il banco come un'estensione di loro, non dico che ci mangiano, insomma sbavano eccetera, per cui i banchi devono essere puliti tutti i giorni. Quando i bambini vanno in bagno, quelli grandi lavano le mani, si asciugano immediatamente, i bimbi di solito gocciolano e quando si gocciola, se tu non sei lì vicino, non fai detersione del pavimento immediatamente, è a rischio anche l'incolumità perché uno può scivolare. Difatti alcune scuole del Mirese e del Comune di Venezia sono state chiuse perché è intervenuta l'USL a controllare, cioè non c'erano i parametri di sicurezza e di igiene, diciamo, congrui con quello che può essere ritenuto un servizio affidabile. Questo appunto ha mosso i genitori, c'è stata un'importante assemblea per la sportelliera c'è un mester qualche giorno fa, mille persone addirittura sono intervenute. Sì, io sono rimasta stupita positivamente perché era neanche l'altra volta, col taglio del 25% avevo visto una mobilitazione così ampia. Ho ringraziato i vari comitati perché erano intervenuti, ovviamente se era il Comune di Venezia erano intervenuti i comuni di tutte le cinture, tutti i comuni della cintura interessati e per questioni di chilometraggio non erano intervenuti quelli di Portogruale piuttosto che di Chioggia ma avevano mandato anche loro la loro adesione. I genitori sono arrabbiati, molto arrabbiati perché in molte scuole, non dico in tutte, mancava la sicurezza e quindi loro si sono resi conto della situazione e hanno, ed è leso uno dei diritti della Costituzione, andare a scuole a sicuri. Hanno redato un documento che noi condividiamo, che ovviamente non abbiamo potuto votare ma che siamo molto felici che sia stato steso e che è arrivato sicuramente al tavolo della Ministra Carrozza ma anche agli altri ministeri in cui si chiede che vengano ripristinati i servizi di prima. Io credo sarà un po' problematico ma insomma mi auguro che il tavolo interministeriale che citavo prima trovi le soluzioni perché davvero sono stati messi a repentaglio i diritti dei cittadini e i diritti a un lavoro degno di tale parola delle mie lavoratrici. Quindi situazione risolta per il momento? Sì, quasi risolta. Quasi risolta e comunque i genitori il 10 febbraio faranno una manifestazione di protesta. Sì, come avevamo previsto noi uno sciopero il 10 febbraio allora c'è un'incongruenza, una sorta di cosa comica se si fosse da ridere. Allora le scuole sono sporche e noi vogliamo scioperare o vorremmo scioperare perché sono lesi diritti delle lavoratrici e dei cittadini. Peccato che noi siamo soggetti alla legge 146 dello sciopero diciamo per servizi essenziali e quindi prima di proclamare uno sciopero dobbiamo proclamare lo stato di agitazione. Nel momento in cui abbiamo lo stato di agitazione ci sono 10 giorni di tempo per il raffreddamento. Una volta che abbiamo espletato e fatto un mancato accordo dobbiamo stabilire altri 10 giorni di tempo per fare lo sciopero e quindi a Venezia dove le trascide sindacali non avevano trovato la quadra e il giorno previsto era il 10 febbraio e i genitori giustamente avevano detto beh allora facciamo manifestazione anche noi e ci riuniamo insieme. Poi a Venezia in qualche modo con Manuten Coop si è arrivati a un accordo che deve essere votato dai lavoratori ma che prevede il raggiungimento del 90% delle ore che erano prima e siccome molte lavoratrici quelle ore non ce le avrebbero pagate Manuten Coop anticipa rispetto ai soldi alle ore che poi verranno messi in una banca ore. D'accordo? Perché ripeto non ci sono tutte le risorse che c'erano prima e comunque le nostre lavoratrici e le mie sindacali parteciperanno alla manifestazione indetta dai genitori il giorno 10. Dati importanti quando si avviciniamo alla conclusione. Appalti che vengono aggiudicati con ribassi pesantissimi. La cosa? Allora il ministero dice sapete cos'è? Per questo appalto io posso spendere al massimo 1 miliardo e 600 milioni nel giro di 4 anni. Facendo i conti forse ci si stava dentro ma non abbiamo fatto il ragionamento del taglio del 25% eccetera. Allora da 400 e rotti milioni di euro si è arrivati, annui, si è arrivati ai 290 che sono frutto del taglio, diciamo dell'offerta a ribasso di alcune aziende. Nel caso Manuten Coop in varia ha fatto un ribasso del 34% ma in altre regioni si è arrivati a tagli a offerte del 70%. In altre regioni la gara è stata diciamo sospesa per eccesso di ribasso. Perché 70% non ha ragione di un ribasso eccessivo. Per me è un ribasso eccessivo anche quello del 35% perché se già lo Stato dice io più di questi soldi non riesco a spendere e già sono contenuti, come fai a ridurre? Perché ripeto è cambiata la filosofia e quindi io acquisto servizi, cioè questo tavolo te lo spolvero non tutti i giorni, tre volte alla settimana. Potrebbe anche andare bene che lo spolvero un giorno sì e un giorno no. Ma se io sono in una scuola questo non posso farlo e soprattutto posso pensare che questo pavimento non possa essere aspirato tutti i giorni. Ma ripeto se sono in una scuola elementare o materna la sicurezza, la pulizia non è quello il parametro e quindi non ho i servizi adeguati a quella popolazione. I genitori esasperati a un certo punto sono intervenuti e hanno pulito le scuole. È stato un bene o è stato un male? È stato un male, secondo me, io capisco i genitori, sono genitore anch'io e mi ricordo quando ancora non facevo questo lavoro che presa dallo sconforto avrei fatto la stessa cosa. Ma sono anche stati molto bravi perché è stata una questione, diciamo una risposta di pancia. Poi ci hanno pensato e hanno ragionato rispetto anche alle nostre lavoratrici perché loro avrebbero portato via il lavoro alle lavoratrici. Ma al di là di questo loro sono genitori che hanno altri lavori e che non è giusto che si sobbarchino l'onere anche delle pulizie di una scuola che è pubblica e che ripeto soprattutto in Veneto è all'avanguardia in Europa. Nelle scuole dove c'è stata più sporcizia, diciamo, quanto tempo sono rimasti chiusi al massimo alle scuole? Mi pare due o tre giorni, anche perché qui c'è un altro discorso da dire. Quando vengono chiuse le scuole qualcuno deve pagare, è interruzione di pubblico servizio e lo Stato, il Ministero dice, e chi mi paga gli insegnanti che sono rimasti a casa? E quindi è una sorta di cane che si mangia la coda. Ma d'altro canto il pubblico, il sindaco che è il responsabile della salute dei cittadini, oppure il dirigente scolastico, si fa carico e dice, beh, ma io cosa devo fare? Se l'USMI dice che non ci sono le condizioni, io la scuola la devo chiudere. Siamo bravi in due minuti a descrivere lo scenario o gli scenari che si possono presentare in queste settimane. Scenario A. Il tavolo interministeriale riesce a trovare le risorse, oppure a un certo punto che il Ministero della pubblica istituzione non ha, ma diciamo che la ragioneria di Stato piuttosto che il Ministero delle Finanze trova la quadra del cerchio, non dico che ripristini al 100%, diciamo al 90%, fino a giugno. Allora, si distende un po' la situazione, le lavoratrici, si respira un po'. Si respira e ovviamente la questione è rimandata a giugno, d'accordo? Bene. Diciamo che il tavolo non trova la quadratura del cerchio, trova metà delle risorse, vedremo come fare. Se non le trova, si ritorna allo status del primo di gennaio e secondo me diventerà la guerra, la guerra perché i genitori giustamente saranno incazzati, ho usato un termine forte ma insomma per far capire, rende l'idea, ma saranno arrabbiatissime anche le mie signore che si vedranno non avere più i soldi per poter mangiare addirittura, non solo per pagare il mutuo e quindi si ritornerà a uno stato veramente pietoso. Io mi auguro che qualcuno si metta le mani sulla coscienza e capisca che non è più vera la storia che tu devi, che con la spending review si taglia la ciccia, diciamo, degli appalti. Potrà essere vero in alcune altre direzioni, ma non in questa. E se mi è concesso, anche rispetto alla spending review, che doveva essere solo del 5% per l'acquisto di beni e servizi, è diventato del 20-25%, per esempio nelle pulizie della sanità. E quello ha determinato ovviamente il taglio di che cosa? Dei posti di lavoro, non tanto del guadagno della ditta appaltatrice. Quindi condizioni davvero improbabili. Esattamente, sì. Ringraziamo dunque Margherita Grigolato, grazie per averci spiegato bene quali sono stati i meccanismi anche che hanno portato a questa situazione e che ovviamente siamo più in augurarci che possa risolvere. Grazie a lei. Ci auguriamo tutti, grazie a voi. Buona giornata. E tra poco con una seconda parte di 7 in punto. Ci vediamo tra qualche istante.